Bene, nella lezione precedente abbiamo dato alcune definizioni molto importanti, la definizione di punto fisso e di punto periodico di un sistema dinamico discreto. Adesso vogliamo generalizzare queste nozioni. Allora, innanzitutto ricordiamo un attimo quelle definizioni. Quindi supponiamo di avere un sistema dinamico discreto f. Allora, x con 0 appartenente ad i è detto punto fisso di f se e solo se f di n di x con 0 n più 1 di x con 0 è uguale a f di n di x con 0 per ogni n appartenente all'insieme dei numeri naturali. Invece abbiamo detto che x con 0 appartenente ad i è detto punto periodico di periodo k di f se e solo se f di n più k x con 0 è uguale a f di n x con 0 per ogni n appartenente ad n. Attenzione che k è un intero maggiore o uguale di 1. Quindi come ho detto all'inizio vogliamo generalizzare queste due definizioni. Allora, per generalizzarle partiamo da un esempio. Esempio 10. Allora, supponiamo la funzione logistica con r uguale a 4, quindi 4x 1 meno x. Vi ricordo che la funzione logistica, ma poi la vedremo meglio in seguito, hrx è rx con 1 meno x con r maggiore di 0. Quindi questa è la funzione logistica h4 che abbiamo indicato con f di x. Bene, allora sappiamo che x con 0 uguale a 0 è punto fisso di f. Andiamo a studiare che cosa succede quando partiamo dal punto x con 0 uguale a 1. Allora f di 1 è uguale a 0. Allora f al quadrato di 1 è uguale a 0. Allora f alla terza di 1 è uguale a 0. Cioè possiamo dire sostanzialmente che 1 è un punto definitivamente fisso. Quindi sostanzialmente che cosa vale? Vale questa relazione qua. f di n più 1 di 1 è uguale a f di n 1. Siccome non è un punto fisso non possiamo fare andare n da 0 in poi, ma dobbiamo scegliere n da 1 in poi. Prendiamo adesso un altro punto significativo di questa funzione logistica x con 0 uguale ad 1 mezzo. Allora f di 1 mezzo a che cosa è uguale? Mettendo qui 1 meno 1 1 mezzo viene 1 mezzo per 1 mezzo, 1 quarto, fratto 1 quarto, 1. Quindi f di 1 mezzo è uguale ad 1. Allora f al quadrato di 1 mezzo è uguale a 0. Allora f al cubo di 1 mezzo è uguale a 0. quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che f di n più 1 di 1 mezzo è uguale a f n di 1 mezzo quando n, attenzione, risulta essere uguale a 2, 3 e così via. 2, 3 e così via. Cioè sostanzialmente anche un mezzo è un punto definitivamente fisso che diventa fisso un pochino più in là rispetto al punto x con 0 uguale a 1. Allora possiamo dare finalmente la definizione di punto definitivamente fisso o detto anche punto anche punto eventualmente fisso. Allora sia f una funzione definita da i in i sia x con 0 appartenente ad i x con 0 è detto punto definitivamente fisso o anche punto eventualmente fisso di f se e solo se esiste un n grande appartenente all'insieme dei numeri naturali tale che f di n piccolo più 1 x con 0 è uguale a f di n x con 0 per ogni numero naturale maggior uguale di n grande. Quindi questa è la definizione di punto definitivamente fisso o di punto eventualmente fisso. Naturalmente se n grande è uguale a 0 parliamo di punto fisso. Orbene adesso dobbiamo generalizzare sostanzialmente i punti periodici e quindi consideriamo il seguente esempio. Esempio 10. Allora prendiamo la seguente funzione f di x uguale al modulo di x meno 1. Allora che cosa si osserva? Si osserva che se noi partiamo dal punto x con 0 uguale a 0 allora f di 0 risulta essere uguale a 1 allora f al quadrato di 0 è uguale a 0. Quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che diciamo x con 0 è un punto periodico di periodo 2. Proviamo adesso con x con 0 uguale a 1 abbiamo x con 0 uguale a 1. Allora f di 1 è uguale a 0. Allora f al quadrato di 1 è uguale a 1. Quindi anche qui deduciamo che x con 0 uguale a 0 è un punto periodico di periodo 2. Proviamo adesso a dare a scegliere x con 0 uguale a 2 e vediamo che cosa succede. Allora f di 2 è uguale. Dobbiamo fare 2 meno 1 diventa 1. Allora f al quadrato di 2 diventa 0 e allora f al cubo di 2 diventa 1. Quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che se noi andiamo a fare f di 2 più n di 2 questo è uguale a f di n di 2 quando n va da 1, 2 e così via. cioè 2 è un punto definitivamente periodico. Se fosse un punto periodico noi potremmo scegliere di ordine 2 noi potremmo scegliere n uguale a 0. Siccome non è un punto periodico naturalmente dobbiamo scegliere n maggiore di 0 e in questo caso n uguale a 1. Quindi a partire da questo esempio noi possiamo dare la definizione di punto definitivamente periodico. Allora supponiamo di considerare una funzione f definita da i in i, quindi ripeto un sistema dinamico discreto. Allora il punto x con 0 appartenente a i è detto punto definitivamente periodico o anche punto eventualmente periodico di periodo k appartenente ad n se e solo se esiste un numero naturale n tale che f di n più k di x con 0 deve essere uguale a f di n di x con 0 per ogni n maggiore o uguale di n grande. Adesso introduciamo due concetti molto importanti, anzi è un concetto, un concetto molto importante che poi si divide diciamo in più definizioni che è il concetto di insieme stabile. Allora supponiamo che x con 0, supponiamo di prendere come al solito un sistema dinamico discreto f e prendiamo x con 0 punto fisso isolato di f. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che c'è un intorno del punto x con 0 in cui l'unico punto fisso è x con 0. Allora l'insieme stabile di x con 0 è definito in questo modo viene indicato con ws x con 0 ed è l'insieme delle x appartenenti ad i tali che il limite per n che tende a più infinito di fn di x è uguale a x con 0. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'insieme stabile di x con 0 contiene diciamo tutte quelle x di cui la cui orbita tende asintoticamente a x con 0. Naturalmente è facile verificare che x con 0 deve appartenere appunto all'insieme stabile di x con 0. Ecco possiamo generalizzare questa nozione al caso di un punto x con 0 punto periodico isolato di f. Allora consideriamo diciamo l'insieme stabile di x con 0 definito in questo modo. E l'insieme delle x appartenenti ad i tali che ecco attenzione x con 0 supponiamo che abbia periodo k. Quindi l'insieme stabile di x con 0 è l'insieme delle x con 0. Quindi l'insieme delle x appartenenti ad i tali per cui il limite per n che tende a più infinito attenzione non di fn ma di fn k di x deve essere uguale a x con 0. Va bene? Ecco quindi osserviamo non andiamo a fare il limite dell'ennesima iterata ma dell'nk iesima iterata. Naturalmente grazie a questa definizione noi diciamo ammettiamo che x con 0 appartenga all'insieme stabile di x con 0 perché se al posto di x noi mettiamo x con 0 fn k di x con 0 risulta essere uguale a 0. E infine diamo la definizione di insieme stabile dell'infinito quindi senza decidere se più infinito oppure meno infinito e l'insieme delle x appartenenti ad i tale per cui diciamo la successione dei moduli delle iterate quindi modulo di x modulo di f di x modulo di f2 di x e così via è un insieme illimitato. Ecco questi diciamo questo concetto di insieme stabile è un concetto molto importante perché effettivamente gli insiemi stabili dei punti fissi dei punti periodici e dell'infinito riescono in qualche modo a caratterizzare la dinamica intrinseca del sistema dinamico discreto. Proviamo appunto a fare un esempio. L'esempio si chiama esempio 11. Allora consideriamo f di x uguale a che cosa? A meno x alla terza. Allora se ricordiamo diciamo quanto abbiamo visto le lezioni precedenti noi sappiamo che 0 innanzitutto è punto fisso di questo sistema dinamico discreto ma sappiamo anche che l'insieme stabile di 0 è fatto proprio dall'intervallo aperto meno 1 1. Andiamo adesso a determinare gli insiemi stabili dei due punti periodici 1 e meno 1 che sono appunto punti periodici di ordine 2. Quindi se noi andiamo a considerare w s di 1 allora è facile vedere che questo è uguale ad 1 e w s di meno 1 è uguale a meno 1. E infine w s di infinito risulta essere uguale a meno infinito meno 1 unito di 1 più infinito. Diciamo questi insiemi stabili li abbiamo sostanzialmente già determinati quando abbiamo fatto il limite per n che tende a più infinito del nostro sistema dinamico al variare del punto x con 0. Adesso vediamo un teorema che possiamo indicare con TH12 che dice questo. Allora si è dato un sistema dinamico discreto f definito da i in i. Supponiamo che alfa 1 e alfa 2 appartengano ad i e siano punti distinti periodici di f. Allora attenzione che l'insieme stabile di alfa 1 è disgiunto dall'insieme stabile di alfa 2. Quindi attenzione che gli insiemi stabili di punti periodici distinti sono disgiunti e proviamo a dimostrare questo fatto qui. Allora supponiamo che alfa 1 sia un punto periodico di ordine k1 mentre alfa 2 sia un punto periodico di ordine k2. E supponiamo per assurdo che l'intersezione non sia vuota, quindi che esista un punto x appartenente a Ws di alfa 1 intersecato Ws di alfa 2. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che f di n di k1 x converge ad alfa 1 se n appunto tende a più infinito e in modo perfettamente analogo f di n di k2 di x converge a alfa 2 se n tende a più infinito. Ricordiamo che alfa 1 e alfa 2 siano diversi. Allora attenzione io qui posso prendere una sottosuccessione di fn k1 x che naturalmente converge ad x visto che la successione converge ad alfa 1. Quindi prendo n uguale ad un numero naturale m k2 quindi con m appartenente ad n. Allora che cosa ottengo? Ottengo che f di m di k1 k2 x converge ad alfa 1 e in modo perfettamente analogo si vede che f di m k1 k2 converge ad alfa 2 e questi sono diversi ma noi sappiamo che se il limite esiste questo è unico. Quindi abbiamo ottenuto un assurdo. Ecco ricordiamo che diciamo la dimostrazione per assurdo, il primo esempio di dimostrazione per assurdo nella storia della matematica compare negli elementi di Euclide quando Euclide dimostra che i numeri primi sono infiniti. Oggi questo processo di dimostrazione è diventato banale però effettivamente la sua origine risale proprio al libro, a uno dei libri più importanti della matematica, forse il più importante che è appunto gli elementi di Euclide. Vi lascio allora qualche esercizio diciamo sulla determinazione degli insiemi stabili. Allora consideriamo il seguente esempio che possiamo numerare con 13 e prendiamo come sistema dinamico discreto un sistema dinamico che abbiamo già incontrato f di x uguale al modulo di x meno 1. Allora come sappiamo 0 e 1 sono due punti periodici di ordine 2 per questo sistema è un sistema dinamico discreto. E quindi sostanzialmente chiediamo di determinare gli insiemi stabili di 0 e di 1. In particolare dimostrare che l'insieme stabile di 0 è 2n, quindi l'insieme dei numeri dispari. Ricordiamo ancora una volta che per i sistemi dinamici discreti i punti periodici che naturalmente contengono i punti fissi, i punti definitivamente o eventualmente periodici che contengono i punti definitivamente o eventualmente fissi e gli insiemi stabili permettono appunto di caratterizzare la dinamica intrinseca di un sistema dinamico discreto. Nello studio dei sistemi dinamici discreti l'analisi grafica gioca un ruolo importante perché naturalmente non permette soltanto di visualizzare la dinamica del sistema discreto ma permette anche di dare delle indicazioni che poi possono essere formalizzate in una fase successiva. È chiaro che l'analisi grafica si fa attraverso dei software e abbiamo visto diciamo nel corso precedente come attraverso la programmazione in Python è possibile costruire un'analisi grafica piuttosto potente. Io invece mi limiterò semplicemente a fare dei disegni. Allora consideriamo il sistema dinamico f di x uguale a x alla terza e disegniamo in particolare la funzione f di x uguale a x alla terza e anche la funzione y uguale ad x cioè la bisettrice. Quindi supponiamo ad esempio che questo sia uno, questo sia uno, naturalmente nell'analisi grafica i disegni andrebbero fatti in maniera precisa perché se no diciamo si hanno poi dei problemi, quindi questo fa così, poi questo fa così eccetera. Allora supponiamo ad esempio di prendere un punto A, va bene, compreso fra 0 e 1, quindi vuol dire che questo valore è uguale a f di A. Allora adesso che cosa facciamo? Ci muoviamo in orizzontale, muovendoci in orizzontale evidentemente questo valore qui non potrà che essere che f di A e quindi questo valore qui diventa f al quadrato di A. ci muoviamo ancora in orizzontale e così via e quindi che cosa vediamo? Vediamo che con l'analisi grafica noi comprendiamo che quando un numero è compreso fra 0 e 1 diciamo l'ennesima iterazione tende a 0 per n sufficientemente grande. Quindi vuol dire che anche da un punto di vista sperimentale noi comprendiamo che WS di 0 è uguale a meno 1 1 in modo perfettamente analogo è possibile scoprire che WS infinito invece è uguale a meno infinito virgola meno 1 unito 1 più infinito dopodiché attenzione che 0 meno 1 è uguale a meno 1 e 1 sono naturalmente punti fissi della nostra funzione e quindi diciamo WS 0 l'abbiamo già stabilito mentre WS 1 sarà uguale a 1 e WS meno 1 sarà uguale a meno 1. consideriamo allora ancora il seguente esempio B di sistema dinamico quindi f di x uguale a meno x elevato ad un terzo allora è possibile verificare che il punto 0 è chiaramente un punto fisso il punto 1 è un 2 punto periodico e lo stesso vale per meno 1. Molto bene cerchiamo di fare un grafico di questa funzione quindi di fare sostanzialmente un'analisi grafica va bene quindi diciamo andiamo a disegnare come al solito l'intervallo 1 meno 1 quindi questa funzione farà farà così sostanzialmente va bene questa è la bisettrice y uguale ad x mentre questa è y uguale a f di x questo è 1 questo è meno 1 questo è meno 1 questo è 1 allora supponiamo di andare a prendere diciamo un punto A compreso fra 0 e 1 in questo modo quindi quindi raggiungiamo questo punto che ha ordinata F A lo riportiamo diciamo dall'altra parte quindi questo punto qui avrà come abbiamo detto sarà caratterizzato da scissa A e da ordinata F A invece questo punto qui sarà caratterizzato da la scissa F A e ordinata F 2 A dopodiché lo proiettiamo orizzontalmente qui lo mettiamo qui quindi questo punto qui avrà scissa F quadro A F terzo A va bene e poi facciamo la stessa cosa lo proiettiamo orizzontalmente quindi abbiamo F terzo A F quarto A e si procede così via va bene? allora quello che sostanzialmente si riesce a vedere è che l'insieme stabile dello 0 risulta essere uguale a 0 invece che cosa succede? succede che l'insieme stabile di 1 ricordiamoci che 1 è un 2 punto periodico risulta essere l'intervallo aperto 0 più infinito mentre l'insieme stabile di meno 1 è uguale a meno infinito 0 e quindi questo vuol dire che l'insieme stabile dell'infinito risulta essere uguale all'insieme vuoto bene osserviamo guardando diciamo questa analisi grafica che quando n è pari e a è positivo allora f di n a risulta essere maggiore di 0 e questo naturalmente ci spiega per quale motivo l'insieme stabile di 1 è uguale a 0 più infinito cerchiamo di spiegarlo anche da un punto di vista analitico allora noi sappiamo che x appartiene a w s 1 se solo se il limite per n che tende a più infinito di che cosa di f 2 n di x è uguale ad 1 allora osserviamo che se diciamo x risulta essere maggiore di 0 va bene allora f 2 n x risulta essere maggiore di 0 ed è quello che sta avvenendo diciamo in questa analisi grafica cioè questo punto qui naturalmente ha come ascissa a quindi sarebbe f 0 di a questo punto qui ha come ascissa f 2 a quindi vediamo che a f 2 a f 4 a f 6 a si avvicina sempre di più a 1 mentre invece noi qui vediamo che f vediamo invece che f di a f 3 a e così via siccome sono negativi si avvicinano sempre di più a meno 1 quindi abbiamo visto come effettivamente l'analisi grafica sia uno strumento significativo per farsi un'idea di come sono fatti gli insiemi stabili dopodiché naturalmente occorre dimostrare la questione da un punto di vista analitico per un'idea un'idea di di chi